Sono Fabio Grassi, un consulente informatico, ho frequentato due giorni di corso con Antonio Lipari per professionisti e mi porto due convinzioni dopo questo corso. Si può organizzarsi e lavorare meglio, lavorare meglio nella propria professione e la seconda risultato che porto con me è che Antonio sicuramente mi potrà accompagnare in questo percorso.